ecco i miei cari ragazzi in questo nuovo test mode sono qui per presentarvi questi due rimorchi questo staple e questo agroliner entrambi biasse editati da gaming evolved e ne approfitto per informarvi che ha aggiunto ci ha messo una nuova versione del mercedes benz arox e gli ha aggiunto dei colori c'è una standard versione oro versione bronzo e versione blu metallizzato e più altre cose in più delle si stamattina qualche piccolo problema di texture e altro e compatibilità con questi due rimorchi qua dato solo un problema cioè che io ho messo la colorazione bronzo ma solo dove punta il sole la colorazione cambia mentre il resto diventa nero il che è una cosa un po diciamo rognosa non so se dipenda solamente c'è no beh visto che l'ho fatto c'è un attimo guarda una cosa no il phoenix no eccolo qua io metto configura metto un nero poi in fora così provo magari a farlo non so bianco vediamo cosa cambia mettiamo bronzo metallizzato vediamo se il problema persiste qui dove punto il sole è bronzo mentre il resto è nero quindi pensare voluto fare una specie di effetto ombra essendo metallizzato non è che tutto è uguale ma fa un effetto diciamo scuro chiaro scuro ecco questo caso però mi sa che l'effetto viene fuori un po male perché mi lo segna come se fosse nero e non come se fosse mare un bronzo metallizzato all'ombra c'è un po più scuro lasciando questo che voi potete cambiare personalizzare i vostri i cerchioni colorali come volete pneumatici tutte carabella anche questa cosa che dovete fare versi pneumatici o mi pare un leggermente sollevato da terra è la mia impressione o no se mi pare che sia leggermente sollevato si è un po sollevato da terra nevo che schiacciato vedete poi un pochettino ma sollevato abbe comunque allora continuando con le test mode dopo mi arrivo a rinformare gaming su questi problemi qua o magari spero che guardi il mio video e mi dia mare qualche dritta oppure mi dica ok grazie per la dritta e tutto quanto c'è una specie di collaborazione tra me e i modelli anche se magari alcune volte certi modelli neanche ti cagano oppure valutano nemmeno i tuoi diciamo le tue tre volette critiche perché non frega un cavolo oppure magari o va bene possono essere sbagliate ma magari possono essere delle ottime critiche per magari sistemare alcune cose poi avete anche il manci qui mi stavo dimenticando che ha sistemato ha aggiunto la possibilità di togliere e mettere le sponde e con le sponde fa 62.000 litri mentre senza non lo so forse 12.000 in meno non ho idea e comunque penso di aver sistemato anche tante altre cose di cui non ricordo vabbè ha messo danamicosis cioè i tubi vengono collegati al posto giusto quando collegato un trattore o un mezzo un cambio che abbia dinamicosis quindi ogni tubo viene collegato al posto giusto e insieme ai due rimor che avete visto lì potete mettere anche la ralla avete due ralla con asse singolo o a ralla con asse doppio personalizzabili con cerchioni di cinque diversi colori cinque diversi tipi di pneumatici faccio vedere un attimino qua in velocità avete questo qui standard bfg goodrich bkt allianz nokian pneumatici stretti o standard qua cerchiamo dei cinque colori avete nero rosso bianco grigio grigio scuro grigio chiaro ecco qui stessa cosa avete la stessa roba e una cosa che ho notato è che vabbè la ralla qui al collisio vabbè mancherebbe quel collisio qui però invece non ha niente di collisio non ha un cavolo cioè io posso sapere di qua al mezzo cioè io passo in mezzo al rimorchio o meglio il mio personaggio trapassa rimorchio mentre si vado allosso a un oggetto fisico tipo un auto un edificio e rimorchio che si ferma lì rileva cioè ha un collision che rileva solamente gli oggetti non rileva il mio personaggio comunque allora questi due rimorchi qua senza sponde contengono 47.000 litri mentre con le sponde ne contengono 59.000 litri quindi diciamo che le sponde le usi magari per quanto riguarda il trinciato mentre per il resto usi il rimorchio normale cioè si suona meglio secondo me cioè si vede meglio un rimorchio con le sovrasponde per trinciato più che per il trasporto per il resto sopra qui non c'è il collision quindi se voi andate in un luogo basso diciamo come ad esempio non sono vari punti di scarico il rimorchio trapassa tranquillamente il soffitto quindi viene trovato praticamente il rimorchio e in altezza massima arriva fuori dal capannone il che non è una buona cosa ma per il resto diciamo che il rimorchio secondo me è fatto molto molto bene nel senso non è il classico rimorchio ha fatto la buona dove magari c'è poco però vedete qua tutto quanto ha fatto bene buon cambio che è arrivato in trinciato vediamo come si comporta vediamo se funziona bene se sono eventuali problemi allora rimorchio innanzitutto non essendo un rimorchio rettangolare lo scarico purtroppo lo fa così vedete questo effetto qui viene fatto in questo modo qua non è rettangolare ha una leggera pendenza e quindi magari se vuoi riempite il rimorchio viene fuori leggermente diverso ecco il plane vabbè qua c'è un problemino qui ma a fine non è che sia roba tanto complicata a sistemare tirati giù però ok boh vabbè finisendo l'idraulico va bene nessun problema è a posto non mi pare da tanti problemi c'è solo qualcosa di sistemare tipo non so il collision mancante qui soprattutto il telaio anche solo il rimorchio poi altro non ce n'è vabbè asso è sterzante va bene vedete l'asso è sterzo quando io sterzo quindi perfetto e per quanto riguarda il camion c'è questo problema qui dell'effetto che sparisce quando sei all'ombra non so se sia proprio un effetto voluto da lui o sia proprio un effetto anzi sono convinto che fosse forse un effetto voluto da lui apposta per risaltare il colore in base alla posizione del sole quindi penso è stato però quello altro da segnalare non c'era altro no niente quindi diciamo che il rimorchi si è fatto molto bene ha qualche piccolo si roba sistemare ma per il resto non è niente da dire come sempre ho il link in descrizione del menci il link in descrizione dell'arox il link in descrizione dei due rimorchi che ho presentato con le due rally che ovviamente tutto quanto ho compreso se ho dimenticato qualcosa perdonatemi ma ho iniziato a fare test modi mi perdo anche in altri video in generale e inizio al prossimo video prossimo video ignorante prossimo video della serie ho in mente di fare un bel cambiamento quindi appena riesco faccio uscire la puntata nel caso Mario e Marco non pubblichino uno dei suoi video pubblico la mia puntata vi fate vedere un pochettino cosa ho in mente di fare e se Mario avete qualche suggerimento fatemelo sapere nel video che pubblicherò se questo video vi ha fatto annoiare vi consiglio di usarlo come video per l'insonnia è molto utile mi hanno già detto che funziona benissimo quindi niente anche il link della pagina di stvmodding e se avete qualche novità su farm in cernove o qualche altra roba vi avviso vi faccio un video e a posto quindi niente alla prossima e ciao ciao buona domenica o buon quando uscirà questo video quindi boh non lo so va bene ciao ciao